Alpensieri S795 B793 Tre ordini di grandezza La distanza infinita che intercede tra i corpi e gli spiriti adombra la distanza infinitamente più infinita tra gli spiriti e la carità perché questa è soprannaturale. Tutto lo splendore e le grandezze terrene non ha nessun lustro per coloro che sono impegnati nelle ricerche intellettuali. La grandezza dei uomini di pensiero è invisibile ai re, ai ricchi, ai condottieri di eserciti e a tutti i grandi della carne. La grandezza della saggezza, che non è nulla se non viene da Dio è invisibile alle persone carnali e ai uomini di pensiero. Sono tre ordini di genere diverso. I grandi geni hanno il loro impero, il loro splendore, le loro vittorie, il loro lustro e non hanno nessun bisogno delle grandezze carnali che non li riguardano affatto. Sono veduti non dagli occhi ma dalle menti e ciò basta loro. I santi hanno il loro impero, il loro splendore, le loro vittorie, il loro lustro e non hanno nessun bisogno delle grandezze carnali o intellettuali che non aggiungono né tolgono loro nulla. Sono veduti da Dio e dagli angeli, non dai corpi né dalle menti curiose. A loro basta Dio. Archimede, anche senza lustro mondano, sarebbe venerato ugualmente, non ha dato battaglie per gli occhi ma ha donato a tutte le menti le sue invenzioni. Oh come sfolgorò alle menti! Gesù Cristo, senza ricchezze e senza nessuna manifestazione esteriore di scienza, sta nel proprio ordine di santità. Non fece invenzioni, non regnò, ma fu umile, paziente, santo, santo a Dio, terribile ai demoni, senza peccato. Oh come venne in gran pompa e in prodigiosa magnificenza agli occhi del cuore che vedono la saggezza. Ad Archimede sarebbe stato inutile fare il principe nei suoi libri di geometria, sebbene fosse tale. A nostro Signore Gesù Cristo sarebbe stato inutile per splendere nel suo regno di santità a venire dal re, ma egli venne con lo splendore del suo ordine. È ridicolo scandalizzarsi della bassezza di Gesù Cristo, come se tale bassezza fosse del medesimo ordine della grandezza che venne a rivelare. Si consideri tale grandezza nella sua vita, nella sua passione, nella sua oscurità, nella sua morte, nell'elezione dei suoi, nel loro abbandono, nella sua segreta resurrezione e nel rimanente. La si vedrà così grande che non ci sarà più da scandalizzarsi per una bassezza che non c'è. Ma certuni sanno ammirare soltanto le grandezze carnali, come se non ce ne fossero di spirituali, e altri ammirano solo quelle intellettuali, come se nell'ordine della saggezza non ce ne fossero infinitamente più elevate. Tutti i corpi, il firmamento, le stelle, la terra e i suoi reami, non valgono il minimo tra gli spiriti, perché questo conosce tutto ciò e se stesso, e i corpi nulla. Tutti i corpi insieme, e tutti gli spiriti insieme, e tutte le loro produzioni non valgono il minimo moto di carità. Questo è di un ordine infinitamente più elevato. Da tutti i corpi presi insieme non si potrebbe far scaturire un piccolo pensiero, è impossibile, è di un altro ordine. Da tutti i corpi e da tutti gli spiriti non si potrebbe trarre un sol moto di vera carità. Ciò è impossibile, di un altro ordine soprannaturale. Grazie. 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 Grazie.